Self Publishing Italia, episodio 69 Ciao, benvenuto da Carmen Laterza a questo nuovo episodio di Self Publishing Italia Consigli e strategie per il Self Publishing e la promozione editoriale Prima di partire per le vacanze voglio darti 5 consigli più uno per sfruttare proprio questo periodo di ferie e di riposo per sviluppare il tuo percorso di Self Publishing Ormai infatti le vacanze si avvicinano, anche chi non fa viaggi verso mete esotiche, anche chi non va lontano in realtà durante le ferie ha la possibilità di riposarsi qualche giorno in più Proprio per ricaricare le pile in vista di una nuova stagione lavorativa Nell'ultimo episodio del podcast dedicato alla scrittura creativa che è l'altro podcast oltre a questo di Self Publishing Italia che io gestisco Ho proprio dato dei consigli per esercitarsi durante le vacanze per scrivere meglio, quindi esercizi di scrittura creativa per migliorare la propria tecnica e quindi poi arrivare a settembre con una maggiore consapevolezza e padronanza della tecnica narrativa La stessa cosa vorrei fare oggi qui per quanto riguarda il Self Publishing perché anche in un percorso di Self Publishing si può sfruttare il periodo estivo per fare tutte quelle cose che richiedono calma, tranquillità e che spesso durante l'anno vengono rimandate o delegate proprio per mancanza di tempo Come sai infatti fare Self Publishing significa essere editori di se stessi, me l'hai sentito dire tante volte e ancora altre tante mi sentirai ripetere questa espressione Quindi fare Self Publishing significa occuparsi di tutte le fasi della filiera di produzione di un libro Dalla realizzazione del formato cartaceo alla realizzazione del formato ebook alla pubblicazione, la distribuzione e poi la promozione del tuo libro Tutto questo è esattamente ciò che farebbe un editore ed è quello che quindi devi fare tu se hai scelto il Self Publishing come strada per pubblicare e promuovere i tuoi libri Anzi lo devi fare meglio di quello che farebbe un editore proprio perché tu sei l'autore e nessuno più di te può avere a cuore il successo dei tuoi libri Ora in un percorso di Self Publishing che prevede così tante tappe ci sono delle cose che finora forse hai rimandato per mancanza di tempo Quindi a seconda del punto in cui tu ti trovi in questo tuo percorso puoi approfittare delle ferie per fare esattamente quello che finora hai messo da parte Quei passaggi che finora hai rimandato Io ti do 5 consigli Il primo fai una pausa Se sei nella fase in cui hai appena finito di scrivere il tuo libro hai appena completato la prima stesura del tuo libro Ecco questo è il momento di mettere da parte il testo e lasciarlo riposare e soprattutto di riposare tu stesso Almeno una settimana meglio un mese o anche più Certo questo tempo dipende anche dalla lunghezza del testo perché più il testo è lungo E più il testo ti ha portato via molto tempo per essere scritto Più dovrebbe essere lungo anche il periodo di distacco che tu prendi dal testo stesso Il punto è proprio questo hai bisogno di distaccarti dal tuo testo, dalle tue frasi, dai tuoi personaggi Prima di tornare a lavorare su di loro, con loro per migliorare il testo nelle revisioni successive Infatti la difficoltà maggiore nella autocorrezione che comunque è una fase importante Perché la prima bozza è soltanto il primo brogliaccio su cui lavorare per arrivare ad un testo definitivo Quindi la fase di autorevisione è importante ma la difficoltà maggiore di questa fase Sta proprio nel fatto che quando noi leggiamo un nostro testo Tendiamo a ritrovare in esso ciò che volevamo dire E non riconosciamo invece ciò che effettivamente abbiamo detto Non possiamo avere questa obiettività La soluzione per riuscire ad avere uno sguardo un po' più obiettivo sui nostri scritti È appunto collocare tra noi e la prima scrittura, la prima stesura Una distanza che è data dal tempo Far passare un po' di tempo tra la prima stesura e le revisioni successive Il tempo migliora le cose Questo vale per molti ambiti, per molti campi Pensa per esempio al pane che migliora se ha una lunga lievitazione Oppure al vino che invecchiando migliora O che quando poi viene aperto ha bisogno di essere ossigenato per essere poi gustato al meglio Ecco, questi sono esempi pratici, semplici Però che ti danno l'idea di quanto ci sia bisogno di tempo per arrivare alla qualità Anche tu hai bisogno di liberare la mente da tutto ciò che riguardava il tuo testo Prima di poterlo affrontare con occhi nuovi E quindi le vacanze, soprattutto se tu hai la possibilità di passarle fuori casa In posti nuovi o con persone nuove Possono essere un ottimo momento per staccare la spina E poi ritrovare la freschezza necessaria per rimetterti a lavorare su un testo Che ti ha già assorbito tante energie Secondo consiglio per fare self-publishing durante le vacanze Fai revisionare il tuo testo Se sei arrivato al punto in cui tutte le tue revisioni personali sono concluse Puoi sfruttare il periodo delle vacanze per affidare il tuo testo a un professionista esterno Che ne curi la revisione Come mi hai sentito spesso ripetere Infatti ogni testo ha sempre bisogno di uno sguardo esterno Meglio sei lo sguardo professionale allenato di un esperto del settore Che può aiutarti a trovare i difetti e i punti deboli del tuo testo I passaggi dell'editing e della revisione di bozze sono passaggi fondamentali Non si può saltarli, non si può annullarli, non si può farne a meno Perché portano il tuo testo alla sua forma migliore E questo è un percorso, è un passaggio che da solo non puoi fare Non mi stancherò mai di ripeterlo Queste operazioni però richiedono tempo Perché anche il professionista esterno a cui tu affiderai il tuo testo Avrà bisogno di qualche settimana per fare l'editing o la revisione di bozze Proprio perché questo passaggio richiede tempo Spesso gli autori sottovalutano l'importanza dell'editing, della revisione di bozze E le saltano a pie pari Perché dopo tanti mesi passati a scrivere il loro libro Poi di improvviso una volta che l'hanno finito Hanno fretta di pubblicarlo e vorrebbero quindi fare tutto subito Però la fretta non dà buoni risultati Come abbiamo visto prima Anche in questo caso c'è bisogno di tempo Allora questo tempo potrebbe proprio essere il periodo in cui tu sei in vacanza Ti riposi e affidi il tuo testo a qualcun altro Oppure potrebbe anche essere inteso come il periodo non strettamente delle ferie Ma come il periodo dell'estate in generale Un tempo un po' più ampio che tu regali al tuo testo e a te stesso Per portare il testo alla sua forma migliore Affidando il tuo libro, il tuo testo a un editor, a un correttore di bozze In modo che il professionista possa lavorare in tranquillità Con calma, con meticolosità sul tuo testo Terzo consiglio per sfruttare il periodo delle vacanze Nel tuo percorso di self-publishing È quello di acquisire nuove abilità Quante volte durante l'anno hai trovato un articolo interessante In un blog o un video tutorial su YouTube Ma poi non hai avuto il tempo di leggere quell'articolo e di guardare quel video Ecco, durante le ferie hai sicuramente un po' di tempo in più Potresti sfruttare questo tempo proprio per imparare a fare qualcosa Che ancora non sai fare Ma che potrebbe essere molto importante per il tuo percorso di self-publishing Abbiamo visto infatti quante operazioni, quanti passaggi Richiede il percorso completo di self-publishing Allora potresti per esempio imparare ad impaginare da solo il tuo libro Per la stampa in formato cartaceo Che è un'operazione delicata Oppure potresti imparare a convertire il tuo testo Nei formati ebook più diffusi Il formato Mobi per Kindle o il formato EPUB Oppure potresti imparare come si gestisce una pagina Facebook Per aprire la tua pagina Facebook di autore Oppure potresti imparare come si gestisce un profilo Instagram O un altro canale social che ancora non conosci Insomma, l'estate è il periodo migliore per imparare qualcosa di nuovo Che ti servirà non solo per il libro che hai in cantiere in questo momento Che poi da settembre vuoi promuovere a tutto spiano Ma anche per imparare qualcosa che ti servirà in futuro Per tutta la tua attività di autore Allora, comprati qualche manuale dedicato all'argomento che ti interessa approfondire Oppure acquista un corso online Ce ne sono molti anche di molto validi Oppure più semplicemente Scandaglia la rete In cerca di tutte le risorse gratuite Che ci sono Basta cercare Ci sono tantissime informazioni gratuite Che però poi bisogna avere il tempo di leggere O di guardare Per esempio Puoi cominciare dall'ultimo video tutorial che io ho realizzato Lo trovi sul canale YouTube di Librosa E si intitola Come preparare il tuo libro per Kindle È un video tutorial in cui ti spiego esattamente passo passo Facendoti vedere dove cliccare e cosa fare Come convertire il tuo file di testo In un formato pronto per essere pubblicato su Kindle Quindi su Amazon Kindle Direct Publishing Il quarto consiglio che voglio darti Per sfruttare al meglio le vacanze Per il tuo self-publishing È quello di sfruttare il periodo dei saldi Per vendere più copie L'estate in generale è il periodo dei saldi nei negozi E lo è anche in libreria Prova a farci caso Ora giocare con il prezzo di vendita del tuo libro Stabilendo sconti e promozioni È un ottimo strumento di marketing Perché durante l'anno dovresti cercare di offrire il tuo libro A un prezzo scontato ciclicamente Quindi non lasciare fisso a lungo il tuo prezzo Ma sempre giocare con promozioni e sconti Che ogni tanto vanno a movimentare questo prezzo Sicuramente i periodi che coincidono con i saldi generali I saldi dei negozi normali Sono i periodi migliori per fare sconti anche sui tuoi libri Perché sono i periodi in cui le persone Sono mentalmente predisposte ad acquistare Sono nella modalità saldi E quindi si aspettano anche in libreria Di poter risparmiare qualcosa E comprare magari un libro in più Perché costano un po' meno Nel caso delle ferie estive poi in particolare Si vende sempre qualche cosa in più Perché chi ama leggere Si prepara alle ferie, alle vacanze Comprando qualche libro in più Proprio perché sa che sotto l'ombrellone In vacanza avrà più tempo Da dedicare alla lettura Allora, sfrutta questo periodo Stabilisci un prezzo scontato Per il tuo libro Sia per il formato ebook Che per il formato cartaccio E lancia una promozione Cerca di fare in modo che questa promozione Duri un tempo definito Può essere una settimana, massimo due Ma potrebbe anche essere solo un weekend O soltanto il ponte di Ferragosto L'importante è che il lettore Che entra nella pagina di vendita Del tuo libro su Amazon O sulle altre librerie online Veda il tuo prezzo scontato E senta l'urgenza di comprare Il tuo libro proprio oggi Perché? Perché oggi è a un prezzo interessante E domani potrebbe invece salire questo prezzo Oggi c'è lo sconto E domani la promozione potrebbe non esserci più Anche se stiamo parlando di prezzi molto bassi Perché i libri in formato ebook Sappiamo che costano pochi euro E quindi un libro in sconto In realtà costa sempre e comunque poco La differenza è veramente Nell'ordine di pochi euro Non ha importanza Anche se parliamo di una cifra piccola Ciò che conta è che la variazione del prezzo Di un libro E questo vale anche per tutti i prodotti in generale È un gioco psicologico potente È una leva motivazionale Molto forte che spinge il cliente ad acquistare E quindi è questo il motivo per cui anche tu Devi sfruttare questa leva Per vendere più copie dei tuoi libri Quinto consiglio per fare self publishing Durante le vacanze È quello di scrivere un nuovo libro Se nel percorso del tuo self publishing Tu sei arrivato alla fine Quindi il tuo libro precedente È già stato corretto Impaginato Pubblicato Tu hai già impostato tutte le tue strategie Di marketing Per sfruttare al meglio i saldi estivi E tutto il resto Bene, non ti resta che ricominciare da capo il percorso Quindi ricominciare a scrivere un nuovo libro Non c'è strumento promozionale migliore Per i tuoi libri già pubblicati Di un nuovo libro Un nuovo libro che va a soddisfare la sete continua dei lettori Di avere nuove storie Soprattutto se scrivi narrativa Quindi se scrivi fiction Oppure un libro che conferma Ancora una volta Rafforza La tua competenza La percezione di autorevolezza Che tu dai ai tuoi lettori Nel tuo settore Soprattutto se stiamo parlando di manuali e saggi Quindi se tu scrivi libri di non fiction Perché sapere che tu hai scritto più di un libro Dà fiducia al potenziale lettore E se poi questo lettore ti conosce già Perché ha letto i tuoi libri precedenti Sarà curioso di scoprire la tua nuova opera Inoltre in ogni libro Tu puoi inserire il link del libro successivo E perfino un estratto del libro successivo Oppure nel libro più recente Puoi inserire l'elenco di tutti i libri Che hai già pubblicato in precedenza Quindi ogni tuo nuovo libro Diventa una vetrina Per tutta la tua produzione editoriale Allora se in questo momento Tu hai completato il percorso Di self-publishing Del tuo libro precedente Ecco l'estate può essere il momento giusto Per cominciare a scrivere Il tuo nuovo libro Ecco questi sono cinque consigli Che volevo darti Per sfruttare il periodo delle vacanze Per sviluppare il tuo percorso di self-publishing E quindi portare avanti Anche in un periodo che può sembrare morto Un processo articolato e complesso Come è quello dell'autopubblicazione Però ti avevo promesso cinque consigli Il più uno E quindi a questi cinque Ne voglio aggiungere un altro Che è quello di base E cioè leggi 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 di tutto Leggi più che puoi Leggi libri dello stesso genere Che tu stesso pratichi Quando scrivi Oppure di generi diversi Per svagarti O anche per stimolarti Nella creazione di nuove storie Leggi per imparare dagli altri autori Ma soprattutto Leggi per il gusto di leggere Vedrai che comunque Imparerai da ciò che leggi Più di quanto pensi Purtroppo anche qui devo dire Molti autori ignorano questo consiglio Leggono poco o niente Dicono di non avere tempo Forse pensano di non avere più nulla da imparare Ma in entrambi i casi Sbagliano E direi anche che mentono a se stessi Perché non c'è una buona scrittura Se non c'è una assidua lettura E lo dice anche Stephen King Che di certo è molto più titolato Di me per dare consigli Nel suo libro On writing Autobiografia di un mestiere Il primo consiglio che lui dà Infatti A chi vuole diventare uno scrittore E' questo Se volete fare gli scrittori Dice Stephen King Ci sono due esercizi fondamentali Leggere molto E scrivere molto Non conosco stratagemmi Per aggirare questa realtà Non conosco scorciatoie Bene Io spero che questi consigli Ti siano utili E che ti voglia seguirli Se hai domande Dubbi Consigli Richieste Come sai Mi puoi scrivere Sul blog Libroza Io ti ringrazio per avermi seguito Anche oggi Ti auguro buone vacanze E ti aspetto a settembre Con i nuovi episodi Di Self Publishing Italia Un saluto Da Carmen La Terza Ciao Io ti ringrazio per avermi seguito Grazie a tutti.